...i locali e non solo, è una canzone di Dallone e Velotto, tratta dal Fabbro del 1979, una canzone che si chiama, vediamo un po' se qualcuno di voi la conosce, forse più di qualcuno, veneziana, vi dice qualcosa veneziana? Sì, vi dice sicuramente tanto e pensate che a proporcela questa sera è una voce, una voce insolita, una voce che appartiene ad un attore che già l'anno scorso ha partecipato alla 13 edizione della musica dei geni in concerto e ne è rimasto affascinato in tutti i sensi, a 360 gradi, come allora anche questa sera presenterà le sue canzoni, quelle che ci proporrà con uno stile tutto suo, uno stile particolare denominato canzone di giacca e ve ne renderete conto anche dall'abbigliamento che indossa questa sera che in un certo qual modo veramente rompe la tradizione con l'abbigliamento dei nostri musicisti e dei nostri cantanti. È un brano questo, interpretato attraverso lo stile canzone di giacca in cui l'esecutore interpreta con enfasi recitativa il proprio frano. Signore e signori, ritorna sulle tavole del palcoscenico nolano Cosimo Alberti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.